Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Prima di iniziare faremo una preghiera di protezione agli angeli della coscienza micaelica e all'arcangelo Michele per chiedere protezione, guida ed assistenza e creare uno spazio sacro armonico e protetto. Sarà una lettura molto interessante. Vi chiedo durante la preghiera di chiedere ai vostri angeli, di chiedere all'arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbero essere due o tutti e tre, ok? Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi e il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero. Vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di elevare anche le energie, vibrazioni e frequenze del luogo in cui ci troviamo. Vi chiedo di allontanare tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore. Vi chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore, della gioia, della prosperità, dell'abbondanza, della bellezza, della salute perfetta, della gioia infinita, della fratellanza, della sorellanza. Chiedo massima protezione fisica, psichica e in tutti i livelli per me, per tutte le persone coinvolte e chiedo a te, Arcangelo Michele, di creare uno spazio sacro, armonico e protetto nel luogo in cui ci troviamo. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie coscienza michaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Oggi faremo una lettura un po' particolare, utilizzeremo le carte di Michele, le carte delle fatte e le carte dell'abbondanza, per vedere un attimino quali sono, diciamo, le operazioni, insomma, cosa dobbiamo fare per manifestare più abbondanza nella nostra vita. Comunque iniziamo dalle carte di Michele e vediamo cosa l'Arcangelo Michele vuole dirci. Stiamo col gruppo A, ok? Gruppo A difeso e protetto. Vedete ragazzi, qui c'è una delle carte che, delle mie carte, delle mie future carte che andrò a pubblicare e qua si parla di tagliare le corde, di tagliare i legami con tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore. In questo caso l'Arcangelo Michele dice tu sei di peso, tu sei protetto, tu sei al sicuro. Vediamo un po'. Bene, gruppo B, questo è lo scopo divino della tua anima. Che bella questa carta. Quando esce si apre il cuore. Scusate, sono cadute troppe carte. Sul tavolo. Eccola qui, è caduta da sola. Tu e i tuoi cari gruppo C siete al sicuro, va bene? Ok. Bene, vediamo ora le carte delle fate. Queste mi piacciono tantissimo, sono bellissime. Vediamo cosa ci vogliono dire. Allora, i tuoi desideri, i tuoi desideri si manifesteranno. È sicuro che manifesterai i tuoi sogni. Interessante. Per il gruppo A. Gruppo B, ragazzi, scopo della vita. Quello è lo scopo della tua vita. Il tuo scopo della vita è essere un insegnante spirituale. Molto bello, molto bello. Per il gruppo C, new career, nuova carriera o un upgrade nel lavoro che magari state già facendo. Ci sono nuove novità. Vediamo abbondanza. Per sviluppare abbondanza nella vostra vita, cos'è necessario fare, cosa richiede, la vostra anima, il vostro sé superiore, i vostri angeli. Che suggerimenti hanno per voi? Vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda il gruppo A, affronta le tue paure sul denaro. Ok? Quindi è interessante. gruppo B, idee illimitate anime infinite. Eccoci qua. Vediamo il gruppo C. gruppo C. Gruppo C. Parole di abbondanza. Ecco, sono dei piccoli suggerimenti per manifestare i vostri sogni. Adesso iniziamo col gruppo A. Assolutamente sei difeso e protetto dall'arcangelo Michele. Vai avanti, continua a pregare, continua a chiedere la protezione di Michele, perché tutto è veramente, i tuoi progetti sono al sicuro, sei amato, sei amata e tutto andrà benissimo, perché c'è un flusso di energia molto positivo, veramente sei guidato da delle forze superiori di luce, gli angeli vediamo su di te, sui tuoi progetti e i tuoi desideri saranno soddisfatti. Ok? Quello che hai chiesto sta arrivando. Quindi assolutamente questa è una carta super positiva. Per quanto riguarda diciamo l'abbondanza, la prosperità, più soldi, il lavoro che stai cercando e così via, devi affrontare le tue paure legati ai soldi, perché comunque molti operatori della luce in questo abito nelle altre vite hanno fatto dei voti di povertà e questo crea dei blocchi e si hanno delle credenze limitanti legati ai soldi, come ad esempio chi ha i soldi sono tutte persone che non hanno cuore, le persone spirituali non dovrebbero chiedere soldi, le persone spirituali sono povere, la povertà è un segno di amore sbagliato. Ok? Tu con l'abbondanza, tu con maggiore ricchezza puoi aiutare più persone possibili, puoi creare i tuoi sogni, puoi veramente fare del bene a te stesso, a te stessa, alla tua famiglia, ai tuoi cari, ma anche alla comunità. Puoi aiutare veramente delle cause come potrebbero essere dei rifugi di animali, dei bambini con delle patologie, aiutare la ricerca sulle malattie o semplicemente aiutare il vicino che ha bisogno di te, un compagno o una compagna, aiutare i barboni, insomma sono tante le cause che si possono sposare quando hai già da adesso con i piccoli passi, con piccoli gesti, ma figuriamoci se tu dovessi raggiungere appunto una maggiore abbondanza. Hai proprio bisogno di utilizzare parole, pensieri, emozioni positive per cambiare il tuo mindset, hai bisogno di lavorare sul cambiamento delle credenze, va bene? Quindi assolutamente ricordati che quello che dice questa carta è che tutte le persone che oggi hanno successo hanno dovuto fare questo lavoro su di sé, per sciogliere i blocchi e per cambiare le credenze, va bene? Per chi potrebbe essere interessato io faccio un percorso di manifestazione con logo sealing, one to one o di gruppo, quindi potete valutare l'idea di partecipare ad uno dei miei corsi, ripeto, o di persona one to one o di gruppo massimo dieci persone, perché sono dei percorsi che creano trasformazione. Naturalmente poi voi dovete continuare anche da soli a lavorare nel processo di riprogrammazione, ok? Bene, gruppo B. Gruppo B, questo è lo scopo della tua vita. Se ti stavi domandando se la carriera che desideri, diciamo, desideri aiutare il prossimo, desideri fare, diciamo, servire a livello di aiutare gli altri con la guarigione, con i messaggi, con tutti gli studi che tu hai fatto per creare la tua formazione, ma comunque questa carta è rivolta a tutti, non solo agli operatori di luce, ma a tutti coloro che comunque sentono nel cuore che la strada che stanno percorrendo è quella giusta. Ecco, questo è un segno, una conferma, assolutamente sì, questo è lo scopo divino della tua anima, ok? Lo scopo divino della tua anima potrebbe essere anche quello di prenderti cura dei tuoi cari, dei tuoi animaletti, prenderti cura di te stessa, diciamo, di esprimere la tua anima attraverso i tuoi talenti, la tua creatività. Assolutamente la risposta è positiva, però più nello specifico le fate hanno voluto darti un messaggio a te che hai chiesto questo, ma io sono un'operatrice della luce? Ebbene sì, tu sei un insegnante spirituale, una maestra di esempio, hai bisogno di completare la tua formazione, questo sì, ma hai bisogno di iniziare ad insegnare, di portare nel mondo le tue conoscenze, perché tu sei chiamata in questa direzione. Assolutamente il tuo scopo nella vita comporta aiutare gli altri attraverso gli insegnamenti nella guarigione e nella spiritualità, ok? Ma come posso fare per fare questo? Come posso fare per portare il mio lavoro al servizio degli altri? Ecco che gli angeli dell'abbondanza parlano di avere idee di abbondanza, di avere pensieri d'abbondanza, idee illimitate per te. Esci dal caos, esci dalla 3D, abbi pensieri potenzianti, fai le affermazioni positive, lavora su di te per cambiare il tuo mindset, la tua energia, perché idee illimitate stanno arrivando a te, cioè proprio l'ispirazione divina, l'intuizione, tu sei molto portato o portata per ricevere questi messaggi di guida e di assistenza, ascoltali e seguili, perché ti guideranno esattamente nello scopo divino della tua anima, ok? Bene, passiamo al gruppo C, allora il gruppo C, gli angeli vogliono confortarti, scusate devo spegnere il condizionatore, c'è un po' va beh, non si spegne, pazienza. Allora, con i tuoi cari siete al sicuro, quindi praticamente devi stare tranquillo, devi stare tranquilla, tutto è a posto, ti stai preoccupando troppo, ti stai veramente, è vero che la carta precedente dice che parte dello scopo della tua vita è anche quello di prenderti cura dei tuoi cari, dei tuoi familiari, ma non per questo devi vivere nell'ansia, nella paura, tutto è al posto, tutto è a sicuro, le tue preghiere sono ascoltate, le tue preghiere di protezione sono assolutamente ascoltate, è venuto il momento di concentrarti un pochino di più su te stesso, su te stessa, nuova carriera, alle porte, questo è un cambio per te, un cambio di prospettiva, potrebbe essere un nuovo lavoro o un upgrade nel tuo lavoro, va bene? Perché veramente stanno, come si dice, la tua attività, la tua missione, il tuo percorso sta vivendo proprio una nuova, un nuovo salto, un salto quantico, cioè veramente un upgrade, un miglioramento nella tua carriera, va bene? Quindi assolutamente alle porte abbiamo successo, abbiamo più abbondanza, più soldi, più prosperità, più partnership, più idee creative, più lavoro per te, quindi assolutamente è una carta super positiva. Vediamo che per manifestare più abbondanza nella tua vita l'invito degli angeli dell'abbondanza è proprio quello di manifestare parole di abbondanza, cioè iniziare a pronunciare, a affermare, io sono ricca, io sono abbondanza, io merito e sono degna di ricevere ricchezza, denaro, prosperità ed abbondanza, io sono ricca e spirituale insieme. Il denaro arriva a me facilmente in maniera continua, costante, sempre crescente, sono grata, felice ed entusiasta perché guadagno euro, puntini puntini, ogni singolo mese, cioè affermazioni, gioia, entusiasmo, questo vi porta alla trasformazione sul piano della materia. Perché così? Perché è la legge della vibrazione, la legge dell'attrazione, ok? Bene, anima infinite, per questa settimana la lettura si è conclusa, chiediamo all'arcangelo Michele, massima protezione, guida e assistenza e chiediamo un messaggio per questa settimana, per tutte le persone coinvolte. Ok, il consiglio degli angeli è quello di devi essere, devi solo essere te stesso o te stessa. Non servono grandi progetti o complesse pianificazioni che richiedono energie e tempo. Ciò che conta realmente è avere il coraggio di essere quello che si è, senza paura, senza finzioni, senza aspettative di sorta. Io vi prego di non prendere alla leggera i messaggi di oggi o comunque messaggi che vengono dati settimana e per settimana. Questi sono messaggi ispirati, sono messaggi guidati dagli angeli, dall'arcangelo Michele. Quando si lavora con le carte, con la protezione, i messaggi sono cento per cento allineati, ok? Quindi veramente ascoltate i consigli degli angeli perché vi aiuteranno nel vostro percorso, nel vostro cammino di vita. Io sono felice, veramente messaggi positivissimi per tutti i tre gruppi. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico sulle persone a distanza o di persona se siete ad Alghero. Mi occupo di facilitare il logo ceiling. Ragazzi, io accetto massimo tre, cinque clienti al mese, non di più, perché sto facendo un grande lavoro nei corsi online e poi presto anche nel corso dal vivo in presenza. Quindi vi chiedo, se siete interessati, di contattarmi. Quindi se c'è posto potete iniziare questo mese di ottobre, se no il mese prossimo di novembre, ok? Logo ceiling può essere utilizzato per sciogliere blocchi, paure, sistemi di credenze limitanti, traumi del passato, ma poi c'è un lavoro anche di riprogrammazione. Quindi da una parte si pulisce, si eliminano le credenze limitanti, si eliminano le paure, le emozioni negative, dall'altra si riprogramma nella frequenza della gioia, nuove informazioni, nuova energia, allineamento nella direzione dei propri sogni, dei propri obiettivi. Questo cambia letteralmente la vostra vita, il vostro modo di vivere, di pensare, di essere, di agire e vi cambia la materia, perché quando noi siamo in una frequenza elevata non faremo altro che manifestare abbondanza e gioia nella nostra vita, ok? Questi percorsi sono anche compresi nei miei corsi di guarigione, ad esempio il corso di guarigione adesso un solo posto, ok? Un solo posto disponibile nel corso di riequilibrio energetico che partirà il 18 di ottobre alle ore 21, un percorso di nove settimane dove sarà segnato tutto sul riequilibrio energetico, la guarigione, verrà fatto il percorso di logo sealing e riceverete anche quattro sessioni di riequilibrio energetico direttamente da me. È un percorso dove il 90% è tutto pratica, 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 il resto 10% sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, sono degli insegnamenti elevatissimi che ci aiutano nel nostro percorso di evoluzione, di crescita spirituale, di allineamento all'amore, ok? Poi il corso di connessioni angeliche partirà fine novembre, inizi di ottobre, data da stabilire, il prossimo corso di guarigione con le nuove frequenze di luce, sempre di nuove settimane online su Zoom, partirà il 30 di novembre, la nuova classe, ok? Quindi massimo 10 partecipanti. Se invece vuoi vivere l'esperienza del seminario dal vivo in presenza, partirà dal 23 al 26 di marzo 2024 a San Donato Milanese, Hotel Santa Barbara, quattro giorni immersa nelle nuove frequenze di luce. Due giorni guarigione, due giorni connessione al sé superiore, riceverai anche la tua connessione al sé superiore personale e riceverai a distanza anche tre sessioni di riequilibrio energetico, quindi non perdere questa occasione se hai voglia di vivere l'esperienza del seminario dal vivo. Mi raccomando, la locandina la posterò qui sotto, quindi potete cliccare e prendere tutte le informazioni, va bene? Oppure contattarmi privatamente e vi darò tutte le informazioni necessarie. Non vergognatevi, non abbiate paura o timore, a titolo informativo non c'è nessun impegno, se è per il tuo scopo divino le porte si apriranno davanti a te in tutti i sensi, in tutti i livelli, anche quello economico, anche l'aspetto economico. Bene, io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buonissima settimana, a presto anime infinite, a prestissimo.